Allora, cosa ci farai vedere? Vi rubo giusto due minuti, però dopo giuro che vi lascio con la musica. Sto creando una diversa Moikana. Moikana, quindi ci danno sfumature differenti? Sì, sarà molto sfumata e ci sarà una linea di sfondenza che ci va a dire in Italia, in Italia, in Italia, in Italia.